Cari amici lettori, colleghi giornalisti e colleghi editori incuriositi di quelle che sono e che potranno essere le grandi prospettive dell'ebook, dell'editoria elettronica in generale nei prossimi anni. Se volete ne potremo parlare in occasione di tempo di libri, in occasione della seconda edizione della fiera dell'editoria che si svolge a Milano. Sarò più preciso nelle prossime settimane quando, però state sicuri che durante quella fiera dell'editoria di Milano ci sarà occasione per approfondire ulteriormente il discorso dell'editoria elettronica e di scoprire che l'ebook è molto di più di come lo si dipinge da molte parti. Grazie. 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 Grazie.